Eccomi qua, sono Fabius, fotografo e videomaker e... artista incompreso. Ma che cos'è un fotografo videomaker, direte voi? È colui che cattura ogni istante importante della vostra vita e ne crea un ricordo indelebile. Ecco, io sono questo, un creativo. Io sono quello che di notte non dorme, perché montando video è allora che la mia creatività prende il soprappetto. E così sono costretto a montare, montare, montare. Poi gli amici mi chiedono, sa, esci stasera? Eh no, devo montare. Sei sempre lì checiuli, eh? Eh, magari. Quindi mi ritrovo a vivere i ricordi degli altri invece che i miei. E come se non bastasse, tutto questo non viene neanche riconosciuto come un vero lavoro. Ad esempio, l'altro giorno una ragazza in chat mi fa, ciao ma tu lavori? Sì. E che lavoro? Fotografo o videomaker? No, un lavoro vero intendevo. Ha 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 ha. Ma che cacchio ti ridi? Neanche più rispetto per noi poveri montatori. Ovviamente il tasso destro elimina. Beh, questa è una delle tante cose che possono capitare a un creativo come me. Ancora lui? Non vorrà mica un'altra modifica? Non vorrà mica un'altra modifica? Se mi chiedi come fa va bene 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 ma non benissimo. Bene 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 ma non benissimo.